Sì, l'anno diciamo che per me è iniziato lunedì, è iniziato settimana scorsa perché ho iniziato gli allenamenti in vista dell'anno prossimo. Sono molto determinato, anche questa è stata una bella settimana di allenamento. Sto già pensando ai 200 metri, sto pensando ai campionati europei, naturalmente sto pensando alle Olimpiadi dove punterò a una finale. L'obiettivo è quello, raggiungere una finale di 200 metri e invece agli europei l'obiettivo sarà quello di prendere una medaglia d'oro perché sarebbe per me la prima volta e farlo davanti al pubblico di casa sarebbe un'emozione indescrivibile, quasi inimmaginabile. Quindi sicuramente l'anno prossimo sarà un anno ricco e molto faticoso, però penso di essere pronto. Per quel che mi riguarda e comunque anche per quel che riguarda la squadra questa pressione noi non la sentiamo, se non siamo noi stessi naturalmente a essere molto esigenti. Pretendiamo da tutti noi il massimo sforzo durante gli allenamenti e naturalmente il massimo risultato nel momento in cui scendiamo in pista. Un esempio quest'anno prima della finale di Budapest dove naturalmente gli Stati Uniti erano nettamente i favoriti, stiamo parlando prima della staffetta, io e Marcel ci siamo detti che non avremmo mai messo una firma per una medaglia d'argento perché quando scendiamo in pista scendiamo per vincere e quindi la pressione che ci autoimponiamo noi è maggiore e non può essere paragonata a quella che magari può arrivare da qualche fattore esterno. Assolutamente sì, penso che sia una cosa storica per il nostro Paese portare i valori dello sport all'interno della Costituzione. Penso che però naturalmente non basti e bisogna pensare a come diffondere il più possibile lo sport, soprattutto tra noi giovani, mi metto anch'io, tra noi ragazzi. In particolar modo penso che una cosa fondamentale sia quello di portarlo all'interno delle scuole, non solo praticato, non solo facendolo fare i ragazzi, ma anche educandoli, insegnandoli magari imprese del passato, del nostro sport, facendo vedere filmati e gare anche in classe, come succede in altri Paesi, ad esempio l'ultimo Mondiale di Basket, è successo che hanno trasmesso in diretta le partite della Nazione durante le lezioni e di conseguenza penso che è una cosa che possa essere fatta anche in Italia, i grandi eventi sportivi, trasmetterli in diretta nelle scuole per educare i nostri bambini al mondo dello sport. Se penso alle cose più belle sicuramente per quanto emozionanti e forti siano state le vittorie, i traguardi che ho raggiunto, non sono paragonabili alle amicizie, ai momenti passati insieme a tutte le persone che incontri, che possono essere compagni di squadra, avversari, allenatori, fisioterapisti, dirigenti. Quello che penso mi rimarrà quando spero tra tanti tanti anni mi ritirerò, sono sicuramente i momenti che passi con le persone che condividono la tua passione e i tuoi valori.